L'appartenenza a una cordata è l'unico mezzo per fare carriera e avere tutela quando si è attaccati e isolati e questo è un criterio molto vicino alla mentalità e al metodo mafioso. Così il PM Nino Di Matteo, nel discorso per lanciare la propria candidatura alle elezioni supplettive per il Consiglio Superiore della Magistratura, ha definito la degenerazione del correntismo. Di Matteo ha spiegato che negli ultimi 15 anni la magistratura è cambiata, pervasa da un cancro che ne sta invadendo il corpo, la burocratizzazione, la gerarchizzazione degli uffici, il collateralismo politico. Nel momento più buio della magistratura ho sentito il bisogno e la voglia di mettere la mia umiltà e il mio coraggio per dare una spallata a questo sistema, ha concluso Di Matteo. Grazie a tutti.